Nonostante sia considerato uno dei più importanti pittori italiani, Giorgio De Chirico nasce a volo, in Tessaglia. La Grecia e il mondo classico avranno un ruolo fondamentale nell'immaginario dell'artista. Nei suoi dipinti, al fianco di piazze e caseggiati moderni, compaiono colonne, busti classici e candide statue di marmo. Giorgio De Chirico studia al Politecnico di Atene, all'Accademia di Belle Arti di Firenze e all'Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera. Dopodiché si trasferisce a Milano nel 1909 e infine a Parigi nel 1911, dove già viveva suo fratello Alberto. Nella capitale francese fa la conoscenza di Picasso e stringe amicizie con i poeti Paul Valéry e Guillaume Polinaire. È in questo periodo che dà vita ad una delle serie di quadri più notte, quella delle piazze metafisiche. Il dipinto della prima piazza di De Chirico, enigma di un pomeriggio di autunno, nasce da una visione, come spiegò l'artista stesso in seguito. Ebbe la strana impressione di guardare quelle cose per la prima volta e la composizione del dipinto si rivelò all'occhio della mia mente. Quando esplode la prima guerra mondiale si arruola come volontario insieme al fratello Alberto. I due vengono inviati in servizio a Ferrara. È qui che Giorgio incontrerà il pittore futurista Carlo Carrà, più grande di lui di sette anni. I due daranno avvio alla corrente nota come pittura metafisica. Per pittura metafisica si intende un'arte che usa gli strumenti tecnici tipici della pittura per rappresentare qualcosa che va al di là dell'esperienza sensoriale, lasciando spazio a sogni e visioni frutto dell'inconscio. Nella pittura metafisica anche i luoghi per quanto realistici assumono una valenza onirica per via di una prospettiva spesso distorta di elementi apparentemente fuori luogo e di colori innaturali. Elementi chiave delle opere metafisiche di De Chirico sono le immense piazze prive di presenza umana in cui emergono elementi bizzarri come manichini, busti di marmo e colonne classiche. Da queste opere spesso traspare un senso di solitudine e inquietudine, come se ci trovassimo immersi in uno strano sogno. Per la figura del manichino, simbolo dell'uomo automa contemporaneo, De Chirico tra ispirazione dall'uomo senza volto, personaggio di un dramma del fratello Alberto Savigno, pittore e scrittore. Le opere più celebri di questo periodo sono Ettore e Andromaca e Le Muse inquietanti. La pittura metafisica porrà le basi per la nascita del surrealismo, corrente artistica che privilegerà la rappresentazione dell'io interiore dell'artista a discapito della fedeltà realistica. Artisti surrealisti sono Miró, Dalì e Magritte. Nel 1936 si trasferisce a New York per un'importante mostra e collabora con famose riviste di moda. Lavora inoltre come decoratore di interni realizzando ad esempio una sala da pranzo in un progetto che coinvolge anche gli artisti Picasso e Matisse. Nel secondo dopoguerra De Chirico avvierà quella che è conosciuta come fase barocca, con opere che ritraggono nature morte, soggetti storici mitologici e autoritratti come il famoso autoritratto con corazza. L'artista ormai stimato e riconosciuto avrà l'onore di festeggiare il novantesimo compleanno in Campidoglio nel 1978. Si spegnerà pochi mesi dopo a causa di una lunga malattia. Grazie per la visione! Grazie per la visione!